Cominciamo con Matteo Terzoni. Un applauso per i 21 fallenti. Adesso tocca a Giuseppe Scicolone. 21 fallenti. Un applauso per Giuseppe. Adesso è il turno di Bilal Gedur. Sette palleggi. Un applauso a Bilal. Ora tocca a Achille Scossesi. Sei palleggi per Achille. Un applauso. Matteo Cerpi. Un applauso. Un applauso. Un applauso. Quaranta palleggi momentanea in testa. Un grande applauso. Adesso tocca a Leonida Ferri. Secondo tentativo per Leonida. 12 falleggi. Un applauso anche a Leonida. Ora tocca a Fabio Ponzini. Un applauso. 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 46 palleggi per Fabio Contini, adesso Davide Valentini, 7 palleggi per Davide Valentini, l'ultimo Riccardo Bocchia, un grande applauso per Riccardo che ha palleggiato senza una scarsa, e tu lo palleggi, secondo tentativo per Riccardo in estremi. 38 palleggi, un applauso per Riccardo, adesso premiamo il vincitore con 46 palleggi, Fabio Contini, un applauso a tutti i partecipanti.